Adesso allora, Gagliani tornerà dagli Stati Uniti e andrà a Forte dei Marmi, anche il presidente dell'Inter dovrebbe essere lì, quindi siamo alla vigilia di Ferragosto, tutto lascia credere che dopo Ferragosto in particolare, dalla settimana poi successiva, si entrerà invece nel vivo con una sorta di Olimpiadi del mercato, tanto per rimanere in tema, visto che sono 15 giorni, da due settimane poi quelle che mancheranno alla fine del mercato, però ci sono anche situazioni che vanno avanti e si evolvono, ad esempio a Catania Antenucci potrebbe partire, piace a Spezia, a Torino e l'ultima idea è il Verona, Catania che ha anche da capire un attimo la situazione societaria, perché la Winget, la compagnia aerea del presidente Pulvirenti, può in difficoltà avere la mancata vendita dall'Italia appunto della Winget, quindi bisognerà capire lì cosa succederà a Catania e quali potranno essere gli sviluppi, invece per quanto riguarda l'estero non abbiamo avuto...